Questi numeri che diamo per buoni perché ci ha dato il governo. Come facciamo ad abbassare le tasse, come dice Salvini? Facciamo questa domanda qui. Permettete, ancora da indipendente, perché sono oggi... Ma lei è vero che si candida gli europei con la Lega? Non è che, è probabile, però ad oggi io ancora sono libero cittadino. Se sarà, lo sarò. Se non sarà, lo sarà fatto. Mica diventa schiavo, guarda che Borghi è libero cittadino pure oggi. No, no, lui, intendevo politicamente parlando. Posso certificarlo, lo conosco da molti anni Borghi. No, lui non è libero perché è felicemente sposato, quindi non è libero. E' un'altra questione. Quella è gioia pura, il matrimonio, giusto Zorlo? Però vorrei dire... No, perché dicendo che è libero, si fanno avanti molti. Pure Boccia, sposatissimo, tu sei sposato. Felicemente, felicissimo a me. No, volevo dire, questo, attenzione, perché noi in questo momento stiamo parlando... Grazie. Grazie.